Onorevole Nicola Moltini, un'importante battaglia vinta per la Lega Nord. Sì, lo struzionismo che abbiamo fatto sul provvedimento delle pene alternative al carcere, tanto per chiamarlo col suo nome lo svuota carcere, il salva delinquenti, ha prodotto effetti positivi. Abbiamo fatto struzionismo prima in commissione, poi abbiamo fatto struzionismo in aula, sia nella giornata di martedì e di mercoledì. L'obiettivo, che era quello di rinviare la votazione degli ammendamenti, è stata ottenuta, quindi un primo successo. Siamo 20 deputati, 20 deputati con determinazione e forza hanno sconfitto per il momento la volontà di maggioranza e di governo di approvare una proposta di legge che abbiamo già definito più volte vergognosa, indecente e che garantisce impunità per i detenuti. Settimana prossima continueremo nella battaglia per rinviare o stoppare questo provvedimento.